Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Pauroso incidente sulla panoramica dell'Ardizio una bambina fanese versa in gravi condizioni al Salesi di Ancola Grandi manovre nel centrodestra fanese si affilano le armi in vista delle prossime amministrative Ancora degrado del verde pubblico ecco le condizioni dei giardini di Fanno 2 Nuova caserma dei Vigili del Fuoco il Comune firma l'accordo e mette a disposizione il terreno Tra poco in diretta su Fanno TV c'è Primo Cittadino il sindaco di Fanno Massimo Seri risponderà alle vostre domande Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia come avete sentito dal sommario c'è stato un incidente ieri sera un terribile incidente stradale sulla panoramica Ardizio a Pesero tra Fanno e Pesero dove è rimasta gravemente ferita una bambina di Fanno vediamo tutti i particolari nel servizio di Vino Balestra E' stato un colpo di sonno la causa del grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 23 di ieri sera sulla strada panoramica Ardizio Un'Opel Corsa è uscita di strada schiantandosi contro un albero nel tratto in discesa verso Fosso Seiore Alla guida una donna di Fanno sul sedile posteriore la figlia, 10 anni, che per l'urto frontale contro la pianta ha sbattuto violentemente contro il sedile anteriore ed ha perso conoscenza L'urto è stato così violento da sbalzare l'auto sul lato opposto della carreggiata All'arrivo dei soccorritori le condizioni della bambina unico passeggero del mezzo sono apparse subito gravissime ed è stata portata al pronto soccorso di Pesero in stato di incoscienza I sanitari ne hanno disposto subito il trasferimento all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona anche se la bambina, mentre si trovava al pronto soccorso era risvegliabile e rispondeva agli stimoli verbali ma era sonnolente per questo la diagnosi dei sanitari parla di emorragia celebrale in trauma maggiore La bambina ora è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale regionale e la prognosi è tuttora riservata La madre nell'urto ha riportato ferite lievi grazie agli airbag che sono entrati in azione ma all'arrivo del 118 è stata trovata dai soccorritori in evidente stato di shock Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, i vigili del fuoco di Pesero ed una pattuglia della sezione infortunistica della Polizia Urbana di Pesero per i rilievi di legge Ed ora parliamo di politica, politica locale perché il centrodestra fanese si è risvegliato e dunque ha deciso di incontrarsi, lo ha fatto in un ristorante per vedere un po' il da farsi in vista delle prossime elezioni amministrative Prima di intraprendere un qualsiasi viaggio, qualunque sia la meta e di passeggeri bisogna assicurarsi che la macchina con cui abbiamo deciso di muoverci si metta in moto Usando questa similitudine riusciamo a comprendere il senso della cena che, promossa dall'assessore Mauro Falcioni, ha visto ritrovarsi allo stesso tavolo ex assessori, compagni di cordata, simpatizzanti e delusi dell'amministrazione seri Lo scopo, ci dice il suo promotore, era proprio quello di una rimpatriata per vedere se c'erano le condizioni per proporre un'alternativa al governo attuale della città Sollecitato da molti cittadini scontenti di questa gestione pubblica ho chiamato a raccolta tutti i soggetti, non solo di destra per capire se ci sono le condizioni che nel 2004 portarono a Guzzi al governo della città con una lista civica Stando ai post commenti dei partecipanti, la macchina oltre a partire ha anche la benzina nel serbatoio dato che l'entusiasmo sembra essere stato ritrovato sia nel clima che nei rapporti politici Quelli personali, ci dice l'ex assessore Falcioni, devono restare fuori Chi fa politica li deve accantonare Uno dei motivi della sonora sconfitta della passata tornata elettorale infatti è stata proprio la lotta intestina che ha portato a ben quattro candidati alla poltrona di sindaco espressione poi della stessa sponda che non portò nessuno di essi nemmeno al ballottaggio ma accontentando il terzo incomodo, ovvero i 5 Stelle con Adaro Micioli Tra i partecipanti alla cena dei miracoli, diciamo così, viste le diverse anime presenti Falcioni ha saputo mettere sotto lo stesso tetto Rossi e Daguzzi Il primo paladino del Santa Croce Gianfranco Darna e i delusi della coalizione Seri Gabbianelli e Riccardo Severi che da tempo sta praticando un'opposizione interna alla stessa maggioranza Il consigliere regionale di area popolare Milko Carloni registra un fortissimo entusiasmo tra i partecipanti e ringrazia sentitamente Mauro Falcioni per questa rimpatriata ed assicura il suo supporto per sostenere la causa Anche l'altro ex assessore, Alberto Santorelli, registra la ben riuscita dell'iniziativa Mirata a far tornare protagonista politicamente, ci dice al telefono, il centrodestra visto il vuoto amministrativo dell'attuale maggioranza e che per il quale diventa esenziale esprimere e coinvolgere forze nuove che si mettono a disposizione della comunità L'attuale forza di opposizione ben svolge il suo ruolo al momento, sottolinea Santorelli evidenziando le criticità della giunta Seri Questo sarà il punto di partenza Più cauto, seppur favorevole a un crogiolo di forze che portino una nuova alternativa di governo alla guida della città Un altro ex di Aguzzi, l'enfant prodige della politica affanese Luca Serfilippi, da poco rientrato in consiglio comunale per il quale c'è solo una certezza A Fano serve un cambiamento forte e radicale Idee nuove e persone nuove Chi come e perché si vedranno strada facendo Del resto la macchina è andata in moto Ora mettiamola in movimento Sicuramente tra i punti deboli dell'amministrazione di Massimo Seri quindi del centro-sinistra c'è il degrado il degrado specialmente nel verde, nei parchi pubblici capita spesso che nel telegiornale vi mostriamo su vostre segnalazioni appunto lo stato in cui versano i giardini pubblici Questa sera siamo andati a vedere quelli di Fano 2 Lo stato di salute degli spazi verdi di Fano ormai è conclamato, versa in pessime condizioni Fano non dispone, se togliamo dell'ibrido dei passeggi di un parco pubblico di generose dimensioni ben attrezzato, sorvegliato e chiuso ma di tante isole verdi, alcune piccole, altre più grandi con 4-5 giochi per i più piccoli dove mamme, nonni o genitori possono recarsi senza doversi sobbarcare trasferte in auto da un capo all'altro della città Una bella situazione direste voi la frammentazione in questi casi è cosa buona e giusta Niente affatto diciamo noi perché a poco serve avere sotto casa 100 metri quadrati di verde se questo è praticamente inservibile anzi pericoloso aggiungiamo L'ennesimo esempio di mala verde pubblico lo troviamo nel quartiere di Fano 2 dove stretto tra i condomini nel cuore del quartiere un bel giardino è lì a disposizione di tutti ma lo stato delle strutture si commenta da solo con le immagini che potete vedere pesanti strutture in legno sradicate dalla loro sede e sparse per il prato alcune di queste spezzate ed appuntite solo vero pericolo per tutti Desolanti catene penzolanti prive di una qualsiasi seduta ricordano solo vagamente un'altalena ma ricordano più che altro uno strumento di tortura altre invece inservibili anch'esse hanno il cestello che ciondola tristemente solo da una parte sul quale possiamo immaginare gioiosi bambini sospinti d'ondolare ora contribuiscono soltanto ad aggiungere desolazione al luogo e partiamo adesso invece della pista ciclabile Fano Fenile perché torna a farsi sentire con un comunicato il comitato Pro Fenile che nel 2007 raccolse più di 600 firme per la realizzazione di quest'opera e che oggi giudica scandaloso il fatto che sono passati 10 anni e questi due chilometri e mezzo di ciclo pedonale sono ancora lì incompiuti e chiamano in causa il sindaco Seri e il presidente della provincia Tagliolini il comitato Pro Fenile pone anche l'accetto sul fatto che nello stesso lasso di tempo a Pesero sono stati realizzati invece 100 chilometri di pista ciclabile insomma siamo stanchi dicono di questa situazione si legge in questo comunicato e ci sentiamo presi in giro dalla politica terminata l'estate si è conclusa anche l'operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera rispetto al 2016 sono calati sia i reati che le violazioni al codice della navigazione si è conclusa da parte della Guardia Costiera l'operazione Mare Sicuro 2017 la campagna che ha come obiettivo tutelare la sicurezza della balneazione ed il rispetto delle norme sul corretto utilizzo delle spiagge e dei relativi specchi d'acqua con lo scopo di salvaguardare la vita umana in mare e l'ambiente marino e costiero l'attività svolta su tutto il territorio marchigiano dal 17 giugno al 17 settembre 2017 nella fase operativa ha visto impegnato un cospicuo contingente composto da circa 400 uomini 39 mezzi terrestri 25 unità navali di cui 8 costiere e 5 di altura e 12 mezzi minori nonché, quando necessario l'utilizzo dei mezzi aerei del terzo nucleo aereo guarda costiera di Pescara il resoconto dell'attività parla di 12.400 controlli effettuati e 34 unità navali soccorse con 120 persone soccorse recuperate ben 53 sono stati gli interventi di ricerca e soccorso e 219 sono stati i verbali amministrativi elevati 11 inoltre sono state le comunicazioni di reato inviate all'autorità giudiziaria di cui 7 per violazioni dell'utilizzo del demanio marittimo dall'analisi di questi dati si evince che rispetto alla stagione 2016 si riscontra un aumento del 13% delle violazioni relative al rispetto delle ordinanze balneari di contro però si è rilevato una riduzione del 15% delle notizie di reato inviate all'autorità giudiziaria ed un decremento del 67% degli illeciti ma anche se l'operazione mare sicuro è terminata la Guardia Costiera ricorda che per ogni evenienza si invita a visitare il sito della Guardia Costiera guardiacostiera.it inoltre si ricorda che per le emergenze in mare è a disposizione il numero telefonico gratuito 1530 attivo 24 ore su 24 raggiungibile sia dai telefoni fissi che mobili Allora parliamo adesso invece della nuova caserma dei vigili del fuoco che dovrebbe sorgere a Fano nei giorni scorsi il Comune la direzione regionale agenzia del demanio e del Ministero dell'Interno hanno sottoscritto l'atto pubblico di costituzione di diritto di superficie per 99 anni con il quale il Comune mette a disposizione del Ministero l'area di località Chiaruccia a Fano dove appunto dovrà sorgere questo nuovo edificio che ospiterà la caserma a questo passaggio seguirà in tempi brevi un accordo da formalizzare per stabilire gli obblighi delle parti e le tempistiche la costruzione della nuova sede dei vigili del fuoco di Fano avrà un costo di circa 1.600.000 euro e verrà finanziato dallo Stato un uomo è stato morso da un ratto e si è recato subito al pronto soccorso dell'ospedale di Iesi per ricevere le cure necessarie e dunque evitare così di contrarre la rabbia è stata quindi contattata la farmacia dell'azienda ospedaliera Marche Nord di Pesaro in quanto dopo una ricerca tra gli ospedali regionali è risultata, quella appunto di Marche Nord l'unico polo in possesso di questo antidoto di difficile tra l'altro reperibilità e non disponibile in Italia al paziente sono state dunque somministrate due fiale di immunoglobulina umana antirabbia che per essere efficace dovrebbe essere utilizzato entro le 4-6 ore dopo, diciamo, dal morso non è la prima volta che la farmacia dell'azienda ospedaliera Marche Nord mobilita antidoti rari e difficilmente reperibili considerati dunque dei veri e propri salvavita verso strutture sanitarie diverse da quelle in cui ha la sede appunto la farmacia in questo fino ad ora si sono registrati 4 casi e adesso invece parliamo della mobilità dolce quella che viene definita così mobilità dolce ed è questa infatti la settimana europea della mobilità sostenibile numerose sono le iniziative messe in campo dal Comune di Fano Fano partecipa per la prima volta alla settimana europea della mobilità sostenibile e lo fa coinvolgendo tutta la cittadinanza in una serie di appuntamenti e infatti iniziato con l'apertura delle scuole a scuola ci andiamo da soli il progetto che permette ai più piccoli di sperimentare in sicurezza ed in autonomia una mobilità sostenibile invece domani, giovedì 21 sono invece gli adulti ad essere chiamati in gioco con l'iniziativa Vieni al lavoro in bici, ti meriti un caffè per capire meglio di che cosa si tratta lo abbiamo chiesto alle ideatrici di questo evento Veniamo tutti i giorni in bici però quella di domani è un'iniziativa per sollecitare chi ancora non lo fa a farlo sempre, insomma tutto l'anno non soltanto un giorno quindi l'iniziativa non è uno spot fine a se stesso ma vuole essere un invito insomma a provare e poi a farlo in modo permanente Perché domani che cosa succede? Che giornata è? Dunque, la giornata del Giretto d'Italia viene il lavoro in bici che è un'iniziativa molto carina veramente per sensibilizzare tutti e noi aspetteremo tutti i ciclisti dalle sette e mezza alle dieci in quattro porte della città che sono l'Arco d'Augusto Piazza Costanzi il Pino Bar e diciamo via Garibaldi lato mare davanti alla bella Napoli si riceverà un coupon con un omaggio di un caffè e un bel segnalibro da tenere Tutte le informazioni le trovate sul sito del Comune di Fano www.comune.fano.pu.it sulla sezione della Mobility Week che l'abbiamo creata nell'occasione di questa settimana della mobilità sostenibile Allora tra poco andremo in onda con Primo Cittadino il tempo della pubblicità intanto vi ricordo che potete chiamare lo 0721 86 14 33 oppure mandarci messaggi brevi di testo al 338 4968 250 anche utilizzando Whatsapp questa puntata sarà visibile in diretta anche sulle piattaforme di Facebook e Youtube grazie per aver seguito il nostro telegiornale questo è il nostro numero per le segnalazioni ci vediamo tra poco dopo la pubblicità restate con noi Grazie per aver guardato il nostro video